Siamo stati costretti a tagliare gli alberi perché prima ancora del verde pubblico per me viene la sicurezza dei cittadini. Sono le parole pronunciate dall'assessore alle manutenzioni del verde, Valdo di Bonaventura, in risposta alle accuse emosse dal WWF. In particolare l'associazione ambientalista ha accusato l'assessore di dendrofobia, e cioè paura degli alberi. L'assessore Bonaventura sull'ambiente in prima linea. In questi due anni sono stati messi a dimostrare un enorme numero di alberi, di tre metri e mezzo. C'è un'attenzione sull'ambiente straordinaria. Io passo tantissimi sabbi del domenico a raccogliere i rifiuti insieme alle associazioni. Quindi un'attenzione particolare a questo documento. Un'assessore che mi sembra un pochettino forviante. E intanto capire le spiegazioni perché? Perché gli alberi abbattuti a Via Lebovio c'è stata una sentenza del Tribunale perché quegli alberi hanno provocato l'abbattimento di un muro e quindi c'è stata una sentenza, tanti ci hanno chiesto anche l'insercimento dei danni. E abbiamo tra l'altro indicato, abbiamo autorizzato poi all'abbattimento la stessa ditta, l'avremmo dovuto fare noi, ovviamente dando nel dispositivo l'ordine di ripianti umani e lo stesso numero di piante. Parliamo di quattro tigli. Lo stesso discorso per la scuola San Giorgio. Ci hanno chiamato perché le piante erano malate e quindi l'agronomo ha fatto un'attenta analisi di quelle piante, piante prunus, parliamo di piante, erano arrivate a fine vita, ha dato l'isposizione dell'abbattimento. Io non parlo mai di abbattimento, parlo di sostituzione. Ovviamente ci vuole tempo, lavoro, ci vogliono risorse. Dunque per l'assessore di Buonaventura il taglio degli alberi eseguiti fino ad oggi sono stati tutti necessari al fine della sicurezza cittadina. Adesso lunedì devo provvedere all'abbattimento di tre tigli all'inizio di Viale Cavour. Invito questi del VUF a venire su, magari se loro si assumono responsabilità, che sono piante vuote dentro, molto pericolose, invito, venire su, magari si assumono responsabilità, perché se poi quella pianta cade, fa danno, ma non solo a cose, perché le cose, ma se fa danno a qualche cittadino, poi io mi devo assumere delle risposte, c'è una relazione agronomica che mi dice che devo provvedere all'abbattimento.